Per quanto pure io ci vedo sta pace, strana pace di un attimo, vedo comunque una pistola, quindi non lo so, vedo una costrizione da un certo senso, cioè una persona che comunque crede che lui si può far portare da un altro semplicemente. Ok, quindi tu la vedi opposta al Lion, quindi lui non lo sta salvando ma è ricattato. Stranamente è strana come cosa, perché non sembrerebbe, però in un certo senso mi dà quella sensazione, anche se vedo questa pace effettiva, lui molto calmo mentre lo porta. Perché non rinuncia totalmente al suo pregiudizio per il diverso, comunque una mano sulla pistola la tiene sul cuore, e nel cuore sta il pregiudizio, sempre. E quella avendo una pistola, però magari che lo vuole difende pure, che ne so, quindi non posso sapere. Qua c'è un mosaico di segni che si confondono e richiamano e attivano delle associazioni, cioè chiaramente un nativo nordamericano è la persona di spalle, ammesso che sia veramente un nativo americano e non ci sia un'inversione di segni per cui lui in realtà è una persona occidentalizzata, che sta portando invece un nativo nordamericano, perché il volto così ceruleo, bianco, che sembra veramente una maschera, secondo me nasconde dei segni, cioè delle due elementi di pittura sulla guancia. Lo vedo molto piccolo, ma mi sembra di intravedere una roba del genere, che però sono mediati da delle cose completamente occidentali, quindi la pistola, il revolver, quel mezzo cilindro, e anche quella che sembra una pelliccia, e dunque dovrebbe ricordarti immediatamente il mondo, il mito della frontiera, i bisonti, quella roba lì, che però ha un reticolo, quindi sembra una tessitura occidentale, una cosa più raffinata, quindi mi dà la sensazione di un luogo incontaminato, che però viene in qualche modo sporcato da un mondo che non appartiene a questo luogo e impone delle cose che non dovrebbero essere lì. È una storia di sangue, la pistola, in generale c'è della violenza, si percepisce questa roba qua, che è un'immagine alienante, perché ci racconta qualcosa che forse nella storia non è ancora stata digerita, c'è una ferita aperta. Ok, Mercanti, poi vi dico qualcosina sul film. Allora, noi abbiamo chiaramente immaginato, vabbè, si vede chiaramente che l'indiano che porta un altro uomo viene da una cultura più sviluppata, diciamo così, abbiamo immaginato come se quest'indiano stesse salvando l'altro uomo, e abbiamo voluto contrapporre un po' di stili, allora alcuni ritmi alla batteria e qualcosa di più rustico e naturale, con un pianoforte chiaramente occidentale. Ok. Ok. Stop. Stavano attraversando. Anche con la sabbiolina. Sì, sì. Allora, il film è Dead Man di Jarmusch, del 1995. Effettivamente questo è un momento carontiano, quindi già il nome del film suggerisce, l'uomo morto. È Johnny Depp, come qualcuno ha indovinato in chat. Tra l'altro, il film è meraviglioso anche perché quello che diceva, se non sbaglio, il professore sul volto molto pallido di quest'uomo, del personaggio interpretato da Johnny Depp, è molto enfatizzato dal make-up e dall'utilizzo della luce. Tra l'altro, questo indiano, questo pelle rossa, chiamiamolo così, che si chiama, diciamo, si chiama nessuno. Lui stesso si è dato questa definizione e si crea il solito gioco che abbiamo già visto. Quindi con chi stai viaggiando, gli chiedono a un certo punto delle persone, tra le quali c'è anche hip-hop, tra l'altro, nel film. E lui risponde con nessuno, no? Che è il classico gioco. Effettivamente sta attracchettando questa persona verso la morte. È un film stupendo che crea veramente un clima assurdo. Sembra un mondo surreale, costruito da questo regista, dove il protagonista in realtà subisce delle conseguenze casuali che stravolgono completamente quella che è la sua vita. Perché lui arriva in una cittadina con una proposta di lavoro, che in realtà si rivela quasi falsa. Nel senso che lui arriva con questo foglio per svolgere una mansione all'interno di un'azienda, dove c'è Robert Michum, tra l'altro, fantastico, come presidente di questa azienda. Lui però non lo calcola minimamente. Quindi sembra questa lettera, non si sa, venuta dagli inferi. Perché tutto questo McGuffin, quindi è la scusa per far partire il tutto, è proprio che lui deve recarsi in questa cittadina strana, tra l'altro, una cittadina che sembra già morta, piena di persone terribili, anche esteticamente. E quindi da qui parte tutta questa narrazione che sembra effettivamente un requiem infernale che non può far altro che portarci ad una fine, diciamo, terrificante. Poi non vi dico altro perché il film va visto. E al di là degli spoiler, non è un film che si può spoilerare, è proprio un film di sensazioni, che dovete assolutamente vedere, una delle migliori performance di Johnny Depp. E l'utilizzo estetico di molti elementi, quindi questo cappello di un certo tipo, questa pelliccia che conferisce molto spessore al personaggio, spessore proprio fisico, mentre lui è ovviamente molto mingerlino, dona a questa immagine qui molta più potenza. Sembra quasi un animale morto in attesa di venire spellato, insomma mangiato.